C'è ancora un video di Ibra che dobbiamo pubblicare in giro? Molto bene, allora Luca fa il discorso alla squadra e iniziamo da Paolo. Sì Paolo, prossima posizione tu devi ragionare, farla alla tu e poi sì. E tu Luca, devi chiudere la difesa e non fare il gallo. E tu padre, la padre faceva di Livio nella Juventus, la fermi e la passa a lui. E tu giurgetto, non direi pauracce, se no io ti mando a casa, a casa nel culo.